Sei pronto? Sì. Sicuro di essere pronto? Prontissimo. Io non ti vedo pronto. E allora ragazzi, ringrazio Fox 104 del cappello. Secondo voi chi vince in questa gara di chi ha il cappello più grande e corposo? Io naturalmente. Vi lo mostro il mio cappello ragazzi, vi mostro il mio cappello. Vuoi battere questo? Comunque ciao, benvenuti a tutti. Mille monete! Eccolo qua, sì. Perfetto, possiamo comprare quello là. Finalmente, che adesso siamo nel deserto e il deserto di notte è freddo. Ecco, guarda, guarda vai in mutande. Intanto tu fai tutto te. E il bello di avere un fratello è che io muovo la levetta, soprattutto lui. Il mio servo. C'è il mio servo. Lavora. Eh, la vedo un'arena. La vedo un'arena. Qui boss ci cova. Se arriva qua la nave volante non so da dove arriva. Cioè, deve bucare il tetto per raggiungere questo posto. Ma va bene. Noi ci siamo. Siamo arrivati. Credo che questo sia il punto. No ragazzi. No ragazzi. Aiuto. Aiuto ragazzi. Aiuta. No, è un... Dov'è finito? L'anello. Eh vabbè. Lo so io. Lo so io. Vai, ti do il signore degli anelli. Lo trovi lì l'anello. Lo sai sempre che l'hanno già buttato nel vulcano. No. Cacchio. Per un pelo non cadevo. Occhio. Occhio. Questo qua fa malissimo. Allora. Ah, tu ti sei impossessato di lui? Cosa hai fatto? Non posso salirli in testa. Sì. Ok. Andiamo. Vai. Devo accelerare. Ma ne prendo pugni. Cavolo. Mi sta andando indietro. No, no. Non riesco. È fortissimo. Anche lui si protegge. Sa che se il suo pugno lo becca. Sa quanto forti sono i suoi pugni. C'è un altro cappello qua. Hai notato? Forse dobbiamo... Ah, farglielo rompere. Ah no. Ci fa rompere tipo il cuore. Così ci dà un cuore in più. Perfetto. Aia. Cacchio. Vai, 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 vai. Vai sul cappello. Ok. Ora andiamo. Devo accelerare. Devo accelerare. Devo accelerare. Cacchio. No. Non puoi andare. No. È volato non so dove nell'oscurità. Sì, gli ho deformato la faccia. Io prima era strano. Ora veramente mamma non so ti disconoscere. Un altro cuore. Ok. È fortissimo. Cosa vuole schiacciarmi? Vuole schiacciarmi. Questa volta non possiamo prendere il cuore. Aiuto. Aiuto. Per fortuna giocare a park. Da Darkseid di Dark Souls mi è allenato. Ok. Abbiamo di nuovo il cuore. Grande. Perché vedete? Il mio fratello è utile perché può prendere cose che io non posso prendere perché sono impegnato a fare altre cose. Tipo a sopravvivere. Ah, perché devo far destra e sinistra. Ok. Ho capito. Noi. BAM. Ma questa mi sa che ti ha fatto tornare ai tempi antichi. Deformazione finale. Ok. Tre banane. Batti il cinque. Mario. Progi anche il cappello al contrario. Fami vedere cosa che strano sei. Allora, che caldo. Ah, abbiamo sistemato. Easy. Abbiamo abbastanza lune. In teoria sì. Aspetta, ti lancio. Vai sul globo che vediamo quante... Ne abbiamo comunque un casino. Devi tirarti. Devi andare lì. Sopra il mappamondo. Ce la fai? Perfetto. Un attimo. Non ti ricordavi? Quell'occhio. Cappellaio. Cappellaio magico. Ma se tu mi tiri il cappello io mi trasformo in te adesso. Proviamo. Che regno pensi che sia diretto Bowser? Questo? Probabilmente nessuno dei due. La principessa in un altro castello. Uh, bello questo. Il regno di cose sono quelle. Sirenette. Sirenone. Non lo so. Ma guarda Mario come a suo agio nei suoi mondi di funghetti. Cioè lui è uno che... Tutti i posti freddi. Ma va bene, di nuovo. Ma quella è ancora viva. Non l'avevamo battuta. I Brudel sono i nuovi di Inkleberg, ragazzi. Eh sì, aspetta. Aspetta, cosa ho fatto? Ah, l'hai fatto tu. E ci sono altre note. Prendile tutte. Prendile tutte. Secondo me... Hanno un tempo limite. Ok, bravo, bravo. Prendi anche le altre. Veloce, veloce. Grande! Ah, c'è da una stella! Sì, una stella. Una cometa, una luna. Cacchio, una stella. Perché le chiamo stelle? Cos'è sta roba? Guarda, ma che idee. Giapponesi, ma vabbè. Sti giapponesi, la cerniera. Troppo bella come meccanica questa. Non mi dire che possiamo diventare un pesce così li spieghiamo sott'acqua. Bellissimo! Ok, Mario conquistato il desiderio. No, ma... Vabbè. C'è un... Lapris, come si chiama il Pokémon, quello là. Ah, una luna? Mi scusi, signor Lapris. Posso rubarli la luna? Ma sì, ma non si neanche accorde. Ha chiesto, sei pregato di spostarti, ma io non voglio spostarti, ma voglio rubarti. Ah, possiamo diventare lui, ti pare? No, ma lui ha già un cappello. Secondo me quelli che hanno già un cappello non puoi. Anche questo è un livello subacqueo o no? Spero di no. Probabilmente sì. Ah, no. Ok. È il livello delle cerniere. Qua dobbiamo aiutarci a vicenda. Io ho sempre avuto problemi nella mia vita con le cerniere. Non so, mi si incagliavano sempre dopo un po'. Quindi ho un po' paura. Però troppo gommose. Ok. Allora, forse qua dobbiamo fare un lavoro in due. Ci vuole una chiave. Abbiamo bisogno di una chiave e dobbiamo trovarla. Intanto tu sbutta via questi spinoli ambulanti. Via dalla mia vita! Ok. Sacca, sacca. Cioè, no, potevamo fare un salto. Noi facciamo sta roba. Anche perché alla fine è vero. Cosa c'è qua? C'è questa nebbia strana, ragazzi? Oh! Big money! Vali a prendere tu, ma io cosa devo fare qua? Che sapete che c'è una tuta segreta che possiamo comprare e costa 9.999 monete alla fine del gioco. Eh, quella è la volta. Eh, 202! Eh, noi ne abbiamo 200... La chiave l'abbiamo trovata! Ok, muoviamoci. Veloce, veloce. Ma qua, se dividiamo il tutto in due... Ok. Ah, la chiave ti dà un'altra luna. Sto diventando lunatico a causa di tutte queste lune! Guarda come... Non ci credo! Ese! Aspetta, salta sopra di te. È un po' brutta questa storia che io ti uso praticamente come uno schiavo assurdo. Non so perché. È una cosa bella. Aiutati. Ma non so, l'hai detto con... L'hai detto con un tempo! Ti aspetti che prendo tutte le monete del gioco. Ti ammazziti tutti cattivi. Sì, sì, arrivo da Peach e poi salti sopra Peach e la rubi. Ci siamo, ragazzi! Nuova Boss Fighter. Concludiamo così. Marca che è... Eh, sì. Il Looney Tunes, il Brutal Stunes. Cioè, non ci stanno... Il Brutal Stunes. Yohoho, troppo tardi! Ci siamo già impossessati del vestito. Ecco perché non c'era sotto. Sì, c'era di sotto. Ah, questo è il più... Questo è il più scemo, secondo me. Però i più scemi sono i più forti perché non hanno pietà. Vedi, devi usare questo per volarli in testa. Così lui non sa dove sei. No, se l'hai rimesso, devo farlo più in fretta, ok. Cavolo! Questi hanno attivu-fo. Stai fermo? E ora? Aspetta. Devo andare in testa. Bam! Così! Easy, ho capito. No dai, alla fine sembra più scherzo, a parte quando inizia a diventare Country Pazzo Man. Country Pazzo Man, stammi a lontarga. Stai buono? Gli stai mettendo i bastoni tra le ruote, i cappelli tra le gambe, ecco. Checchierola! Eh sì, questo qua gioca in Beyblade. Mamma mia, devi colpirlo tu, devi colpirli... Ecco, ok. Aspetta. Bam! Ok. È Robot Wars, soltanto con i cappelli. Questo. Vai col piccolo. Aspetta. Ah! Boom! Ormai è una sottile. Oh! Oh! Dove sono? Il mondo dei caroteni animati? Ecco. Mannaggia. Estirpatore di carote. Dammi le tue... Banane! Ma perché stiamo volando, secondo me? Perché siamo sott'acqua e stiamo nuotando. Ese! Ho tenuto una multiluna! Woo! Tu sei veramente intelligente. Non l'hai detto in un po' perché. Perché questo... Non so, quando dicevo complimenti a mio frataglio in modo così strano... Sono... Hanno un doppio fine. Probabilmente domani, se non vedete i video sul canale, è perché mi ha eliminato per rubare. Ecco. Va beh. Questo mi ricorda un po' un livello alla Sonic. Sì. Un po' sì con tutte queste cose meccaniche. Sì, sono tutti i colori. Guarda questo! Guarda che giungla! Incredibile! Non hai sentito niente. Eh, c'è King Kong. Cosa c'è qua? È Donkey Kong. Ho sentito una vibrazione sulla testa, no? Possiamo andare... Ma questo è halo. Non vedi che è la cupola? Sono tanti halo uniti. È halo, ragazzi. Super... Super halo Odyssey. Eeeh, Peppere! Guarda ci sono... Bellissimo! Cosa è sta cosa? Tieni premuto per allungarti. Va beh! Però mi viene da piangere perché siamo una cipolla con le gambe. Aaaaaah! Va beh, dai. E non c'entra il fatto che sia una cipolla. Guarda! Devo fargli vedere che è più forte. È una gara questa? È una gara? Cioè, questo è un albero di cipolle. Un tempo quest'albero era una cipolla anche lì. Aspetta però... Poi sto troppo. Ha fatto le gambe. Eh, sì. Ho sbagliato la testa. Su. Eeeh, castagne! Vede. Ah! Mi ha saltato in testa ed è morto. Mai, mai saltare in testa. Mai saltare in testa, Mario. O forse mi aggrappo sulla rete. No. Aia. Nooo. Vabbè, dai. Concludiamo qua adesso, ragazzi. Ma ci stavano aspettando. Eh, non so se ce l'ha... Dove ci manda? Perché ci manda indietro. No, mentre io abbiamo preso il check. Poi, 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 poi... Vediamo. Dove ci è mandato? Ah, no! Non abbiamo perso! No, qua c'è un T-Rex. Qua c'è un T-Rex. Nella foresta c'è un T-Rex. No, qualcosa di perso. C'è un T-Rex speciale. Guarda! No. No, pensavo fossero degli occhi. In realtà erano delle monete. Però ci stiamo avvicinando. Dai, scopriamo cosa, ragazzi. Prima di andarci, eh. Guardalo! Aiuto! No, niente ci sa! Ah, era un T-Rex. Te l'ho detto? Ma aspetta, ma questo non è un T-Rex che dorme! Questo è un T-Rex, viva! Aspetta che lo prendo. Vuole rubare! E anche un cappello! Un cappello troppo bello. No, 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 no. Eh, ma vuol dire che mi sa che questo non si può uccidere. Ci sono protetti. Booser ha lasciato i cappelli agli altri. Aspetta che metto il seme. Aspetta che metto il seme. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Ok. Come lo... Piantalo! Ah, come si pianta! Sì, la vogliamo metterla, pianta! Va buono, dai. Ragazzi, noi concludiamo qua, anche perché siamo da un'oretta almeno in live. Domani esce un nuovo video. L'ho quasi finito di editare. È un gioco che abbiamo fatto un tempo. Non ve lo spoilero, così vi lascio l'effetto sorpresa. Che ritornerà. Minecraft Arco la sta animando anche oggi. E penso che la inizierò anche prima della sua animazione. E poi la sua animazione andrà a compensare la serie. Perché non voglio farvi aspettare troppo. Quindi comunque per Natale voglio farvela uscire. Stiamo anche preparando nuove cose anche su Minecraft. Oltre all'Hardcore e anche altri episodi su altre modalità. Quindi speriamo che vi piacciano. E insomma, Walking Dead. Sto aspettando le traduzioni. Arriva pure quello. Perciò, niente. Vi ringraziamo tantissimo anche per l'evento. A tutti quelli che sono stati che sicuramente ci stanno seguendo qua. Grazie mille per tutti i vostri regali. Magari li apriremo in un prossimo video. Noi concludiamo qua. E noi ci vediamo al prossimo. Yuhuu! Mario Odyssey. Ciao! Ciao!